Carnevale oristanese ai nastri di partenza. Dopo la gustosa anteprima della scorsa settimana si entra nel vivo degli appuntamenti. Ieri il primo dedicato alla memoria di Annadina Cozzoli, prima amazzone della storia della giostra recentemente scomparsa. Oggi invece protagonisti i suoni di Sartiglia grazie all'evento organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Oristano. Artisti e studiosi insieme per confrontarsi sulla musica del carnevale. Domani spazio ai più piccoli con l'atteso appuntamento nel quartiere Subrugu. Migliaia di bambini sono attesi a Sazattile Ganna. Giovedì 28 febbraio in piazza Roma la tradizionale zippolata organizzata dalla Proloco e contestualmente la sfilata in maschera delle ludoteche cittadine. Sabato 2 marzo in via Mazzini su Sattilla Moenti. Per lasciare poi spazio il giorno dopo alla Sartiglia edizione 2019.